Forza premio criterio un turritano, la più solista sembra essere Mignana nei confronti di Sumonti Gedo all'esterno Gold Queen, poi via Regal Rumor, a centropista avanza Sucratu mentre i cavalli transitano nel tibone, rompe riduce e va al comando via nei confronti di Sumonti Gedo all'Ottekap in terza posizione Regal Rumor, poi avanza Volatuk, Gold Queen nel cuore del gruppo più a largo Sucratu e gli altri, mentre i cavalli affrontano la prima piegata, andatura abbastanza blanda quella imposta da Sumonti Gedo e via al suo esterno, in terza posizione a contatto rimane Regal Rumor mentre i cavalli affrontano addirittura opposta alle tribune e sempre al comando via nei confronti di Regal Rumor che inizia ad essere richiesto dal suo fantino più a largo Sucratu, ancora centropista avanza Sucratu mentre i cavalli imboccano la piegata finale passa Regal Rumor nei confronti di Sumonti Gedo su Sucratu, poi inizia a muovere anche la Sauragold Queen con allargo su Contadori i cavalli affrontano la curva finale al comando e Sucratu ora affiancata all'esterno del Regal Rumor e Sucratu che passa passa su Sucratu nei confronti di Sucratu e Sucratu poi il Gold Queen e a centropista su Contadori il cavalli entra addirittura, la corsa entra nel vivo ai cento e cinquanta finali e vantaggio su Sucratu nei confronti di Regal Rumor Sucratu che va verso il treguardo Solicità c'ha messo il frusto nel suo fantino ed è Sucratu che si impone da cavallo di un'altra categoria in seconda posizione Mario Pizze al terzo Regal Rumor Sucratu che si impone da cavallo di un'altra categoria